Nell'ambito del Mese della Cultura a Lanciano, una bella iniziativa organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Maria Luisa Brasile ed è presidente Licia Caprara. Di cosa si tratta? Quale sarà questo momento tanto importante inserito in questo maggio di Cultura e Libri? Con l'Associazione Maria Luisa Brasile ogni anno organizziamo il nostro festival. Noi siamo un'associazione che si occupa di educazione, prende spunto da quelli che sono i temi del presente per declinarli in termini di educazione, educativi per tutti, per i ragazzi, per gli insegnanti, per le famiglie, per tutti quanti noi. Ogni anno facciamo questo festival a maggio intitolato EduFest e ogni anno con un tema differente. Il tema di quest'anno è l'educazione alla speranza. Lo facciamo il 17-18 maggio con ospiti di riguardo che ci porteranno ognuno la propria idea di speranza. Il festival sarà concluso nella serata di sabato 18 da lo spettacolo di Stefano Massini, l'alfabeto delle emozioni. Perché Stefano Massini? Perché questo spettacolo? Perché attraverso il ritrovato rapporto con le emozioni possiamo anche riagganciare la speranza che dal nostro punto di vista manca moltissimo oggi a questa società ma manca soprattutto ai ragazzi. Abbiamo scelto questo tema perché dal nostro punto di vista oggi c'è un sentimento diffuso di paura, di incertezza verso il futuro. Facciamo fatica a ritrovare un senso di comunità, di fiducia e soprattutto facciamo fatica a guardare con meno paura al futuro. E allora ecco perché l'educazione alla speranza e non a caso il nostro grafico nel materiali che abbiamo preparato per promuovere l'evento ha voluto fare sfocata la parola spess perché facciamo una grandissima fatica oggi a mettere a fuoco proprio l'idea di speranza. Quindi invitiamo tutti a venire il pomeriggio di venerdì e sabato alla parte convennistica che si svolge all'auditorium di Ocleziano mentre le mattinate le abbiamo dedicate ai laboratori per i ragazzi e soprattutto la sera allo spettacolo di Stefano Massini e i biglietti sono già in vendita su Ciao Ticket.